buongiorno cazzo no ma dove state eh ma vi rendete conto a Ibiza è pieno di figa ma nonna maria mamma mia ciao fan un saluto da nonna maria o fan fan i fan 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 ma quanto è bella proprio stile ibizienco buon uomo ma dov'è che siamo qua siamo alla playa del bossa dove la figa ti dà la scossa mamma mia che spettacolo pieno il secco la mostra dei culi la mostra dei culi ti piace proprio sotto la figaia è scatenato mamma mia numero uno tu sei il numero uno eccoli va il bocadillo no eh bocadillo come ti sembra sti Ibiza è un casino stai bene? sto bene ma io mangio quello un po' mangiare con l'altro quando l'acqua non c'è se va non c'è un far bagno che c'è? dopo ti porta l'ushuaia? ci viene più il sole e basta? eh certo si sta bene? sto bene si ma ma la sorca c'è o no? eh? la sorca c'è? ma passa qualcosa ma? ma non ti credeste che c'è un granchetto? eh ma ora vedrai dove andiamo se sei a 18 e 30 all'ushuaia vero? sì all'ushuaio Laura qua si beve la sangria sai che aspettiamo domenica ciao lauresti ciao la sangria com'è? ho mangiato il limone ma questo c'è il sorca no? ma qui c'è non c'è niente guarda guarda hanno del neri come il che hanno no? ma che ne sono quelli ti fanno pena? no no queste, che hanno? ultime giornate di campionato c'è rosellino che è on fire la chiappate tutte qualcosina volete scagliare scrivete a lui questo è il suo gruppo scrivete a rosellino tra poco ragazzi scriveremo la storia non so se una persona di 93 anni 94 anni quasi è mai stata l'ushuaia non lo so però noi ci andremo i sogni di portare i nonni qua perché ci vengono quando ho 18 anni quindi proprio messo in testa e ci sarà una persona che sarà vestita travestita non vi dico niente continuate a seguire le storie state mamma mia è stata scrivente tantissimi vi ringrazio però era uno dei ciao coccodrilli vi aspetto al crystal il 14 mi raccomando non dormimo perché sta pieno forza ragazzi voglio un casino della madonna ma come casa dei nonna sta zitta che casa dei è tutto pronto sei carico che cosa carica sarà carico secondo te è pronti c'è anche il reverendo che è passata è quello che stiamo scrivendo la storia vip tables vai 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 abbiamo una fan a canita che è venuta l'ushuaia solo è vero grande come ti chiami l'italiano che culo che culo non parla di un italiano ti dite qualcosa a di potere bossa dai dai a scossa la scossa di playa di bossa la scossa di playa di bossa sé 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 sì se Ma insomma, vi siete divertiti o no? Sì, tantissimo Com'era? Sta pieno, sta pieno Zeppo Lei è un prete Mamma mia, io sono andato Che esperienza, eh Sono stato a visitare i parrocchiani Eh sì Comunque potete di quello che vi pare Ma una roba del genere Non si è mai vista Mai vista Mai vista E troppe ne vedremo ancora Anche la benedizione ha fatto Quindi vi è piaciuto tutto, siete stati bene Sì, ci è piaciuto bene Ci è piaciuto tutto Ma figa, quando ci andiamo? Ma no, non ci si può andare Come non ci vuoi andare? Io no, tu c'hai la moglie uguale Non ci si può andare Eh, va bene, ma Sì Questi sono I sfimperli Del pubaro Ma te sciocco Ma sono buoni Sono i peperoncini Peperonati con doppio ripeperotore No, ma sono buoni Questi sono le crocchette di scoglio Di scoglio Attenzione Certe cose succedono solo a Ibiza Solo una volta al mondo Perché questa è un'isola magica È un'isola magica Tutto può succedere Incredibile Incredibile Ohhhhh Al sugo e il ciuccio Sushi Al sugo e il ciuccio Ha mangiato il sushi A vedere, non c'è? Al sugo e il ciuccio Si è andato a un ulu A dentro a un ulu Si Eh, beh Beh, beh Beh, beh, beh Nooo L'ho shot Alla goccia Alla goccia Incredibile